La trasduzione è un meccanismo di trasferimento genico fra i batteri, sempre di carattere orizzontale, ma in questo caso il vettore di questo trasferimento è un virus. Quindi si tratta di un meccanismo abbastanza sofisticato, sia pure non voluto ovviamente dalle cellule batteriche, ma è un meccanismo che si realizza in seguito ad una infezione che i batteri subiscono da parte dei batteriofagi. Questa trasduzione può avvenire in due modalità differenti, a seconda se il virus è un virus di tipo litico o lisogeno. Vediamo come avviene. Noi sappiamo che quando un virus, un batteriofago infetta un batterio, introduce all'interno della cellula batterica il proprio DNA e che durante le fasi di moltiplicazione virale il DNA del batterio viene spezzettato, viene frammentato da un enzima specifico del virus in modo tale che il virus abbia a disposizione i nucleotidi del DNA batterico per fare copie del proprio DNA, del DNA virale. Durante il momento finale di questo ciclo, qui sto parlando del ciclo litico ovviamente, durante quindi questo momento finale avviene l'assemblaggio fra il DNA virale che è stato riprodotto e le proteine virali del capside e appunto può accadere per errore perché durante questa fase all'interno del capside virale venga introdotto materiale DNA di origine batterica e nel momento in cui questo virus che contiene DNA di origine batterica andrà ad infettare un altro batterio, trasferirà ad esso ovviamente anche quel frammento di DNA batterico che è stato inglobato in esso per errore. Da questo momento in poi questa cellula batterica che è stata quindi arricchita di materiale genetico non appartenente ad essa, lo trasferirà, questo materiale estraneo, anche nelle cellule figlie a cui darà origine per mitosi. Questo tipo di trasduzione si chiama trasduzione generalizzata, proprio perché è del tutto casuale il tipo, il frammento di DNA che viene introdotto nel capside virale. Quando invece il virus ha un ciclo di tipo lisogeno, noi sappiamo che il suo materiale genetico si inserisce nel materiale genetico del batterio, si fonde con esso e quasi tutti i virus fanno queste operazioni in punti specifici del cromosoma batterico. Anche in questo caso può avvenire per errore che al momento dell'assemblaggio il DNA che è stato riprodotto, il DNA virale che è stato moltiplicato, porti via con sé pezzi di materiale genetico del batterio. Solo che in questo caso il DNA batterico che viene trasferito per errore nel capside virale non è casuale, ma è quasi sempre costituito da pezzi di DNA del batterio che sono adiacenti, contigui al punto di inserimento del DNA virale. E questo significa che la cellula che riceverà successivamente un'infezione da questo virus che contiene il materiale genetico batterico, la cellula che riceverà questa infezione, dicevo, riceverà uno specifico frammento di DNA batterico e ovviamente poi lo trasferirà alle cellule figlie. Bene, questa ultima modalità è estremamente importante, utile e interessante per le biotecnologie perché, come vedremo in un'altra lezione, noi siamo ormai capaci di utilizzare i virus come dei veri e propri vettori specifici per la introduzione di geni di nostro interesse all'interno delle cellule batteriche con la finalità poi ovviamente di moltiplicare questo materiale genetico nella colonia batterica che si sta coltivando.